Niente se n'invista al Tempio di Pomona, anche se artistici e dipinti su quadri. Quelli di arte contemporanea realizzati da Gianni e Francesca Strino in mostra nella sala espositiva della Curia a pochi passi dal Duomo. E' scattata una sorta di censura tra le opere dei due pittori che fino al 17 marzo sono in mostra a Salerno. Qualche immagine è stata ritenuta troppo sede a sacerdote incaricato dal Vescovo che ha visionato i quadri prima dell'inaugurazione e ha disposto l'eliminazione di qualche dipinto eccessivamente audace per il metro di giudizio della Curia. Sono venuti poco prima dell'inaugurazione, raccontato Lucio Serretiello, curatore della mostra. Si sono complimentati per la bellezza delle tele ma ci hanno raccomandato di contenerne alcune perché poco adatte al luogo. Abbiamo rimosso alcuni quadri, uno è ancora al suo posto ma coperto da un telo bianco. Gianni e Francesca Strino hanno esposto in tutto il mondo e nel mese di ottobre scorso le loro opere sono state esposte anche a Vallo della Lucania. Grazie. 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 Grazie.